E' di questa mattina la notizia di 3-4 imbarcazioni rimasta incagliata nei fondali insabbiati del porto di Pescara per le quali è stato necessario l'intervento della Capitaneria di Porto. Con la marineria sempre più esasperata, stamattina Pescara è arrivato per un sopralluogo tecnico anche Edoardo Rixi, Vice Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, che ha annunciato l'imminente insediamento di un tavolo tecnico per trovare una soluzione definitiva al problema del porto canale di Pescara. Quello che ho visto qua a Pescara è incredibile, cioè che ci sia stata una latitanza di questo tipo negli anni l'ultima nave commerciale entrata nel 2014 e praticamente aperta a una diga foranea senza avere già un'analisi di via completata su tutta l'infrastruttura complessiva. Credo che ci siano delle responsabilità molto forti. Attiveremo immediatamente un tavolo tecnico. Io una settimana fa ho scritto circa il provveditore delle opere pubbliche dobbiamo trovare una soluzione d'urgenza che consenta intanto di svuotare la vasca di colmata prima dell'inizio della stagione estiva, però non si può andare avanti così e dobbiamo dare una certezza su un riutilizzo del porto di Pescara a livello commerciale. Oggi non è un porto commerciale e quindi credo che ci vorranno strumenti straordinari per ripristinare una credibilità all'approdo di Pescara. L'altro tema è come cercare di sveltire le procedure sia via regionale che nazionale e soprattutto al limite di procedere anche a un commissariamento nel caso con un commissario straordinario sulle infrastrutture dedicate proprio al porto di Pescara. È chiaro che da questo punto di vista a livello normativo dobbiamo capire i percorsi possibili ma visto che il governo si occuperà nei prossimi mesi di uno sblocco a cantieri credo che il cantiere più importante da sbloccare sia proprio quello del porto di Pescara. Oggi noi dobbiamo avere delle date certe non solo sull'inizio dei lavori che oggi non ci sono per il completamento dell'opera ma anche e soprattutto sulla fine dei lavori.